Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! Ha risolto giallo! Buonasera. Buonasera e bentornati da Alessia Sorgato. E da Niccolò Mazzavillani. E già, sono già un po' troppo ricorrente. Non sono più abituato anch'io a essere così. Ti vogliamo sempre qui, Niccolò. Sempre. Anche se hai avuto dei sostituti temporanei come tua zia, Paola Varalli, che salutiamo. Ciao Paola. Ormai da Varalli... Ma spostiamoci di qua. Benvenuto al nostro ospite. Grazie, buonasera. Come vogliamo chiamarti, professore? No, no, no. Antonio va bene. No, veramente. Va bene? Sì, sì, va benissimo. Lasciamo perdere il professore? Assolutamente sì. Ma lo sei? Era bello se diceva egregio, perché deve essere chiamato egregio. Lo sono, però appunto in questo momento no. Ok, d'accordo. Niente, lasciamo per un attimo la cattedra. Esatto. E prendiamo un treno, una diligenza, una macchina, quello che vuole. E ce ne andiamo sull'Adda. Intrighi e morte sull'Adda, il commissario Albani, misteri del liceo. Oh! Quindi qua ha detto prima professore, liceo. Allora, qua la prima domanda, Antonio, è non scontata, è un saldo proprio delle ultime settimane. L'avete capita questa? No, scusa, mi stavo tossendo. Cos'è che hai detto? Ho detto, la prima domanda non è scontata, è un saldo delle ultime settimane. No, no, è bellissimo. Non l'ho capita. Beh, va bene. Non l'ho capita. Non è scontata. Arriva un po' dopo, arriva un po' dopo. Non è scontata, non ha lo sconto, però... Grazie, prof. No, ci mancherebbe. Allora, la prima domanda non è scontata, è a prezzo pieno. Allora, tu fai il professore e questo l'abbiamo detto. Sì. Questo lo abbiamo ambientato in un liceo. Sì. Come mai? Eh, beh, sì, giusto, la domanda non è scontata, giustamente non è scontata, ma è opportuna. Ecco, direi proprio opportuno. Beh, vabbè, proprio perché insegnare in un liceo, per me la scuola ha una valenza molto importante. Cioè, infatti, non solo per me, per tutti, insomma. Rappresenta la vita fino a un certo punto della nostra crescita e poi rappresenta quel momento, un momento molto critico per le ragazze. Allora, diciamo questo ai nostri telespettatori. Tu insegni in un liceo e che liceo? Classico. Sì. Ah. Sì, però non insegno a materie letterarie. Invegno a materie scientifiche. Sono un biologo. Dovevi pur metterti contro qualcosa, no? Ce l'hai fatta. Allora, quindi hai a che fare esattamente col tipo di utenza che descrivi. Esatto. Quindi, c'è un po' di osservazione da parte tua. Sì, ma guarda, veramente, i miei libri nascono sempre da quello. Infatti, ho scritto delle biografie. Siamo qua a San Siro, ho fatto la biografia di Eugenio Finardi, che abita qui vicino. E quando lo presentavamo spesso, lui, sai, ribelle della musica italiana, così, e dicevo, ecco a voi lo scrittore. E io dicevo, guardi, veramente non sono uno scrittore, ma sono un descrittore. Che ha due valenze. Allora, valenza di sottrarre, no? Di sottrarre. Ci piace. Esatto. Perché è vero. Io quando scrivo, non scrivo fondamentalmente. Ci spieghi un po' questo. No, no, appunto. A volte descrivo. Usa il dittafono. Ah, ovviamente. A volte descrivo, in senso negativo, tolgo la scrittura da qualche parte, da qualche cosa. Perché è un po' come... La scultura. Esatto, brava. Esatto. Devi togliere qualcosa per far venire fuori l'anima della pietra, del marmo. Oppure descrivere significa, appunto, scrivere ciò che vedo. E quindi, fondamentalmente, a me mi suscita molto interesse ciò che vedo. Che posso poi agire su ciò che vedo. Posso togliere, posso aggiungere, posso comunque alterarlo. E creare, appunto, un'opera ideale. Non per forza bella. Potrebbe essere anche brutta. Perché poi, appunto... No, no, perché poi il brutto è molto relativo, no? Certo. Appunto. E quindi, ecco perché... Quindi, la scuola. La scuola è un tormento, io non l'ho mai lasciata. Cioè, io insegno. Ho fatto le scuole. Mi dicevo, l'università. E sono rimasto dentro la scuola. E sono ancora a scuola. E rimasto lì. Non si muovo proprio. È solamente che poi il tempo, sai, tutte le cose che si fanno, sono pesanti, così. E allora... Beh, guardi. Per non andare in burnout, si scrive un bel romanzo in cui questa scuola... Esatto. È un serbatoio di mistero, nefandezza, crimine... Ci arriviamo. Quindi tutto l'odio rivolto verso la scuola, visto che ci ha passato così tanto tempo... Sì, come un ragazzino, mi sai, che si è rivolto contro... Esatto. Ci arriviamo, ci arriviamo. Perché questo, guardate, è un tascabile. È un... Tra l'altro non un tascabile qualsiasi, ma... Dei fratelli frilli che ritornano qua a risolto giallo. È un tascabile, ma... Se te lo metti in tasca, i concetti ti portano... È abbastanza pesante. Accidenti. Bello. Vai, Nicky. Poi torniamo al suo romanzo. Vorrei saperne di più su questi Intrighi e morte sull'Adda. Poi, anche il... Il commissario. Il commissario, sì. Ma più che altro fare un po' più attenzione... Secondo me ti chiede nella copertina. È quello che sarei arrivato dopo. Però, in questo momento, mi interessa anche sapere il suo rapporto come professore. Quindi anche sapere un po' di Antonio. Antonio e di come la sua esperienza, magari, se c'è, ha avuto... Quanto peso ha avuto nella scrittura di questo romanzo? No, la mia esperienza a scuola è anche in evoluzione. Come un ragazzino proprio, cioè, frequenti la scuola. E poi, al primo anno, in un modo, al secondo anno, dopo 4-5 anni, i ragazzi al quinto anno sono diversi dal primo. E anche la mia, il mio rapporto con la scuola. Perché la scuola, come dicevo prima, tocca la società, tocca le famiglie. Tocca gli intellettuali. Galimberti non fa altro che parlare degli insegnanti. Il filosofo Galimberti parla sempre degli insegnanti. E chiede, richiede in un insegnante il fascino. E quando sento una cosa così... Che può essere opinabile... E quindi l'insegnante che ha il fascino. Io ho avuto momenti in cui facevo molto conto sul fascino. Quando ero giovane, quindi con i ragazzi era molto bello. E il professore Biacione. Esatto. No, poi invece, adesso, più che il fascino, conta la relazione. La scuola non è fatta dall'insegnante o dagli studenti. È una relazione, no? E quindi per me la scuola è molto importante. E molto spesso nella scuola, anche nell'ordinaria attività scolastica, diventa uno scontro. Ogni tanto, sentiamo delle cose. Diventa uno scontro, a volte in maniera bionivoca. Altre volte c'è l'insegnante che gli dà due a quel ragazzo, che per me mettere due è assurdo. Per questo lo penso. Poco tempo fa il ragazzo va a casa e si è suicidato perché pensava di aver fallito tutto. Allora, ecco perché la scuola merita un'attenzione e una riflessione vera, profonda. Anche le riforme sulla scuola, che adesso ci sono anche dei cambiamenti importanti, così. Però le riforme vanno fatte tenute conto che la scuola è un servizio... Certo, certo. Non so come definire. Sono assolutamente d'accordo con te, Antonio, anche perché la scuola, ci siamo passati tutti, ed è il primo banco di prova tra noi e il mondo. Certo. Cioè la società, quindi è veramente importante ed è fondamentale avere un insegnante che ti riesca a dare tutte le giuste guide e un insegnante che sia anche comprensibile. Assolutamente. Però non vorrei uscire troppo dal tema... Ma ultimamente però ho capito, ho scoperto che fondamentalmente questa società crea scontri. Assolutamente. Al di là che ci sia uno scopo, un motivo così, è una società di scontri. Bisogna dicere una cosa... Oggi un ragazzo diceva... E vabbè però bisogna essere... Ecco, c'era Galimberti che parla del fascino, un ragazzo che voleva... Però un insegnante deve essere simpatico. Cioè, quindi che fai, manca a scuola, faccio il simpatico e tutto un po' ma... Ma veramente, ma siamo... Ecco, ecco lì. Allora, quel libro lì... Che hai capito, Alessia? Arriviamoci. No, quel libro lì che cosa fa? Prende la scuola... Che bisogna meditarci molto bene. Ha due estigazioni quel libro e due moventi. Una è la morte. Infatti inizia con la descrizione della morte. Perché per me la morte è un'altra cosa importante. La morte mi spaventa. Non la morte in quanto la cessazione della vita, il fine della vita. La fine della vita. Mi spaventa e mi spaventano i morti. Cioè, questo volto pallido, questa immobilità... Quindi non ci parlano i tuoi personaggi quei morti. Non fanno altri. No, addirittura... Ma il protagonista addirittura... È morta la moglie, è un professore il protagonista. Non entra più nella stanza da letto perché gli ritorna in mente l'immagine della moglie sul letto di morte. Ed è terribile. A me viene a me. E il secondo? Hai detto due temi. La morte... Sì. Una è la morte. Il secondo lo sto un po' perdendo. Una è la morte, però non so da dove sono partito. Il secondo sicuramente è il rapporto anomalo, come dicevo, di scontro, che può creare una scuola che devia dal suo compito. Allora, ci siamo detti prima fuori microfono. Tenete conto, tra l'altro, che il nostro ospite, perché Milano è molto grande, una grande metropoli, 3 milioni di abitanti, ma lui è amico di una mia amica. La quale amica... Ciao Luisa, l'abbiamo detto che ti avremmo salutato. Ciao Luisa. Ciao, ciao. La quale amica insegna, ma ha tempo perso. Io Luisa lo conosco, però a questo punto non è soltanto da tutti. Fa un altro mestiere. E quando commentavamo il fatto che ti conosciamo e che io ti avrei avuto qui ospite, lei mi aveva detto, senti, ma tu sappi che lui è molto bene amato come professore. Magari lui non lo sa, magari i suoi allievi glielo nascondono, glielo fanno vedere del tutto. Io che ero una sua collega, lo so, lo adorano. Quindi lui ha tutta un'aura affettiva intorno. Io poi ho avuto spesso a che fare in epistolario con suo fratello, quindi c'è tanto affetto, tanto calore, e lui se la ride. Ma in realtà, allora, Gerardo, dimmelo. Sei qui tra amici, non ci sente nessuno. Dimmi che sei borderline. Perché? Sei simpatico, sei bene amato, sei molto paccioso. Mi hai scritto una storia che, avete presente Columbine? Avete presente quelle stragi nelle scuole di provincia americana di cui sentiamo ogni tanto che arriva Un giorno di ordinaria follia. Arriva il ragazzino che c'ha la carabina del padre con cui il padre va a caccia di alci e tira giù 30 dei suoi compagni. Qui non c'è la strage. Evidentemente, se no, io non lo direi. Magari ci sarà nel prossimo libro. Ma l'atmosfera è questa. No, c'è da prima. È pura elettricità. È un coacervo di nefandezze in un ragazzo, perché qui il tuo vero protagonista è lui, in un ragazzo marcio, marcio dentro, che in certi momenti cerchi di riabilitare e poi ricade. Quindi, capiamo in che capitolo del DSM, che è il manuale dei disturbi psicodiagnostici, tu sia e una volta decodificato questo. Scherzi a parte. No, 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 ma è bellissimo quello che stai dicendo. A me piace tantissimo. No, no, ma è vero. Ma è bellissimo perché entra nell'intimità delle possibilità che la vita offre a ognuno di noi di essere in un modo di essere il contrario, di essere a metà, è così. Quindi, Antonio, tu dimmi, dimmi, come ti è venuta questa idea? No, ripeto, è stata la morte. Ce l'avevi con un tuo allievo? No, 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 perché non c'è, giustamente come diceva Luisa, la nostra amica che è saluta anch'io, non ce l'ho con gli allievi perché vanno perdonati comunque gli allievi. Non sentite, se vi dà un brutto voto ve lo siete meritati. Io sono più retributivo. Sì, esatto. Io ho fatto, mio fratello Gerardo, perché io sono Antonio Gerardo, anche qua tutta una storia strana. Voi ho detto, voi ho detto. Mi fratello è Gerardo. Vabbè studiato un attimo. È solo Gerardo e basta. Io sono Antonio Gerardo, quindi sono, lui è parte di me. Mamma del Rico. Eh no, mamma del Rico, ma come fai a intuire? No, no, perché mamma ha fatto tutto questo perché era devoto a San Gerardo, al sud San Gerardo e quindi mi è stato Antonio Gerardo, finiamo qua, poi è nato Gerardo il giorno di San Gerardo. Vabbè mamma del Rico, lei c'aveva dei numeri da giocare qua. Appunto. Non si è rifatta il tinello. No, no, invece volevo, volevo veramente che si ritornasse alla realtà, al discorso di prima. Cioè la realtà, l'insegnante fascinosa, ma dai che è vero, Brad Pitt in classe, Brad Pitt che parla, tutti che lo guardano, ammirate poi quello che dice, che importanza ha, perché è quello di fascino. Ma tu questo protagonista tuo, che è così intriso di tutti i peggiori vizi, nefandezze, zero empatia, cioè le ha tutte, hai cercato anche di riabilitarlo? Niente, questo qua, recidivo, non ce l'ha fatta. Da dove ti nasce sto spunto? Sì, sì, vedo il pessimismo che ho, come tutti i poeti di una volta. Tutti i professori. Come tutti i professori. Ma no, i professori, riguardo la scuola, sono ottimista, perché credo nella riabilitazione, credo nella guida, nella formazione. Però il mondo intorno, io sono altamente, lo sento negativo in tutte le cose, ma io lo sento proprio negativo. E sento questa distanza tra vecchi e giovani, cosa che una volta non c'era, perché c'era continuità, c'era... Alessia diceva prima, un protagonista che, marcissimo, che nonostante i tentativi di riabilitazione, rimane marcio, e si scontra un po' con quello che hai detto prima, che i studenti vanno sempre perdonati. Quindi, cioè, è più quello che hai voluto mostrare è un po' una visione della realtà, di come è effettivamente la realtà degli studenti? No. ha voluto descrivere come la realtà di chiunque il fine ultimo è il carcere. Se si va fuori da certi diforsi. E quindi, infatti, lui si riabilita solo quando arriva in carcere. Questo ragazzo si riabilita quando dalle sbarri della sua cella guarda il cielo e comincia a riflettere su se stesso, sulla vita, sulle cose. quindi solo quando questo mondo va a questa deriva. Cioè, se non succede il disastro, la catastrofe, non si capisce, non si capisce, ma perché basti pensare a quello che sta succedendo. Basta, adesso basta, da quando è morta Cecchettino se ne è morta altre dieci e continueremo, continueremo questa cosa. E' veramente, non c'è più la possibilità, cioè, allora, io vengo dalla famiglia di contadini, prima parla di contadini, sono in un momento come da studiare a Milano, perché Milano è una grande città così. Quando tu vai in campagna, quando io andavo in campagna da piccolo con mio papà, se sbagliavi qualcosa, morivi. Cioè, se mettevi un piede, andavi sotto un trattore e morivi. Ci sono tanti incidenti in campagna. Allora bisogna essere molto attenti, quindi, cioè, se devo fare qualcosa non lo devo fare perché l'ambiente richiede quella cosa. Quella cosa l'ha fatta perché è necessaria e quindi anche la nostra vita deve avere un orizzonte. Quell'orizzonte, lo stabilisce ognuno di noi, ognuno, lo stabilisce il proprio. E poi, è solo che io scelgo la vita, io sono per la vita, ecco perché mi tormenta quello che sta succedendo. Scelgo la vita, però ci sono persone che scelgono la morte. Cioè, dico, scusa, tu hai dei figli, hai una moglie, e quello che ti viene da fare, per quanto così, di far fuori tutto, di distruggere tutto. Ma è un po' troppo, è eccessivo tutto questo e sta continuando. Come finirà? E questo dipende dalla coscienza, dall'autocoscienza delle persone. Se non facciamo questo percorso, e quindi la scuola per me è questo, cioè non c'è nessuno che possa, ecco, altro che fascino, nessuno può formare i ragazzi, se non si formano da soli. Formarsi in un percorso, io, allora, ecco perché non funziona la scuola. Io lo dici, e poi si mettono, perché c'è la distanza tra vecchi e giovani. Quindi tu ce lo dici, e ridono, perché non capiscono il senso di ciò che sarà. Invece una volta, invece in campagna, la nostra educazione, diceva mio padre, devi guardare sempre a quello che succede. Perché, perché dice uno, se metti un piede e sbagli, è finita. E quindi la vita, anche a Milano è così, se metti un piede sbagliato, finisci nei guai. Sì, sì, sì. Io ho una figlia anche di 15 anni. Eh, appunto, è impegnato, fa tante cose. È intelligente. Diciamo, è di famiglia questo. Si chiama Gerarda? No, è bellissimo. Si chiama Anna Celeste Atena. Avrei detto Antonia, perché hai visto Antonio. Atena. Bella. Anna Celeste Atena. Detta pallade. Bravissima. Ma lei ci arriva. La volevo chiamare pallade, poi dico, ma come faccio a chiamarla pallade, questa povera ragazzina? Allora c'è una tante. La volevo chiamarla, però pallade, è stato bellissimo. Ecco, rompi, no? C'è tutto a dire pallade, madonna. Io ho un feeling con questo autore, ho un feeling, ho talmente un feeling che ho percepito prima che sta, ne ha scritto un altro. Un altro, un'altra? Un altro. Un altro, si è scritto Morte a Milano, è stato uno dei primi. E la morte ricorre sempre. Si chiamava Ernst, veramente, perché poi l'ho pubblicato con un altro editore, sempre Lombardo, cioè questo qua non è Lombardo. No, questo è Genovese. No, ma io avevo inteso che ne avessi scritto un altro dopo questo. Prima, è Noir, intendi, oppure... Ho capito che sei poliedrico. Ho scritto molto. Ho scritto molto. No, ma di questo commissario sentiremo parlare ancora. Del commissario sto scrivendo, però insegno anche. Allora sto scrivendo un altro libro ancora che è diverso, sto scrivendo tante cose. Di questo commissario sì, mi piace perché forse siamo... Mi piace il suo essere anche lui non moderno. È moderno quei pensieri con il modo di approcciare anche perché non è uno di quei commissari che si leggono dappertutto, che si vedono ovunque. No, che si vedono anche in televisione. Ah, questo che fa tutto, che è un eroe, un supereroe. Questa è una persona semplicissima. E com'è il rapporto con i giovani? Il rapporto di questo commissario con... Con i giovani. È un rapporto semplice, è un rapporto domanda-risposta. Cioè, la domanda è come ti chiami? Non è che questo si chiamerà in un certo... Mi chiamo in questo modo. Dov'eri quel giorno? Lui cerca, cerca, un po' idealista, un po' così, cerca, quando fai i suoi... Poi farà dei... Come si dice? Degli interrogatori. Degli interrogatori. Lui si aspetta che il ragazzo dica sì, ho fatto questo o non ho fatto questo. L'ho fatto o non l'ho fatto. Perché un commissario questo è cerca... Indaga non per scoprire il cattivo che poi si nasconde o vuole essere buono. Lui pensa che il mondo sia fatto di cattivo e buono. Se io sono cattivo mi comporto da cattivo. Cioè, io se dovessi fare una mia scelta da cattivo faccio il cattivo fino in fondo. E se mi prendono è giusto. Come era una volta la malavita di una volta che qua c'era, c'era cattivo Vallanzasca. Erano cattivi. Cioè, facevano questo e basta. E lo facevano con una grande arte. Certo, avevano il loro codice della ligera che era assolutamente quello. Ragazzi, qua vi faccio a dirglielo. Dai, dimmi. Ha finito il tempo! Lo so, lo so. È una morte, morte. Mamma mia! Allora, facciamo così. Fai mi in sci. Visto che la Luisa stavolta non è potuta venire, ma mi aveva promesso che sarebbe venuta. Tu torni da noi dai, Bernda. Col prossimo libro. Sì. Magari dite a quelli del liceo che ha bisogno di tempo, questo povero uomo. Dovete dargli un pochino meno ore e un pochino più di tempo perché lui deve scrivere e deve tornare qui da noi. Quindi, promesso. ringrazio tanto tuo fratello perché è stato gentilissimo. Un puntato di ringraziamenti. Ringraziamenti è molto. No, perché lui ha l'ufficio stampa di suo fratello. Ah, davvero. Praticamente fa tutto suo fratello. Sì. Sì, guarda, io oggi ho già... Mi raccomando, guarda, ho chiamato Alessio, mi devi arrivare lì. E infatti, è pieno di poliziotti perché c'è la partita con Revo, sta macchina. Ma no, speriamo di arrivare lì. Sette e mezza. E dopo la multa al nostro autore perché è venuto qui con la partita. Torni, Mazzavillani. Eh, sì. A me è piacere tornare. Bello. Bene. Ritroviamoci, dai. Ritroviamoci, ritroviamoci. C'è anche lui. Ciao risultisti, ci ritroviamo anche con voi. Alla prossima. Grazie. Ciao, ciao. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. Ha risolto giallo! Grazie.